Ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo sino al prossimo 24 aprile, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, attiva una riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli siciliano degli Alburni e il Lago Negro Nord Maratea in entrambi le direzioni. Qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari. Sempre su quest'arteria sino al 13 e dal 16 al 18 aprile nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18 per un cantiere si procede ancora a carreggiata ridotta tra Petina e Siciliano degli Alburni in direzione Fisciano. Sulla statale 145 Sorrentina sino al 19 aprile nella fascia oraria 22.6 esclusi giorni festivi e prefestivi per lavori di manutenzione all'interno delle gallerie varano e privati. È chiuso invece il tratto compreso tra gli svincoli Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino in tutte e due le direzioni. Ci spostiamo sulla statale 268 del Vesuvio dove invece sino alle ore 16 del 20 aprile è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano Zona Industriale ed Ottaviano Centro in direzione del capoluogo partenopeo. Ci sono due cantieri sulla tangenziale di Salerno sino al 28 aprile nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 ancora ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi per lavori di manutenzione è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Sala, Bagnano e Fratte in direzione nord. Su questa arteria sino alle 22 di lunedì 30 aprile per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto Cristoforo è chiusa anche la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione nord. È tutto, grazie per la cortese attenzione. Grazie a tutti.